Mi scusi, e lei sarebbe l'idraulico? Sì, certamente, il furbo esperto, questo è il mio nome e ora basta con le formalità. Un minuto sprecato e un minuto perso. Mettiamoci all'opera subito subito con i test di intelligenza. Allora vediamo, siete pronti? Via! Il tempo è scaduto, signori, consegnatemi i fogli, prego. Molto interessante, signor Klung, signor Zilli, signor Dusterly, avete indubbiamente scelto un mestiere sbagliato, non c'è dubbio. Avete mai pensato di fare gli idraulici? Gli idraulici? Gli idraulici? Ma il signor Dusterly invece è diverso, egli ha un'innata predisposizione per il comando. Dunque io consiglio che il signor Dusterly prenda il comando di questo squadrone. Lei è d'accordo, signor Dusterly? Sì, 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 sì. Cosa? Io prendere ordri da Dusterly? Dovranno volare gli asini prima che Dick Dusterly prenda ordri da un cagnaccio. Pronto? Ah, è lei, generale. Sì signore, tutti a bordo degli aerei, uomini Sì signore, subito signore Chiamica, volate ragazzi Dove va tu, guarda se li prendo io le spazze Adesso Matt li assaggerà la sua stessa identica medicina Ehi ragazzi, siete pronti con l'operazione trituratrice? Facci i lunghi, sono proprio pronti anch'io credone Il piccione sta arrivando e si dirige diritto verso di noi ragazzi Si sta avvicinando, si sta avvicinando Pronti, colpitelo Colpitelo, non fatelo fuggire, pronti con la scura Oh mamma mia, l'abbiamo mancata anche sta volta Ci riproveremo, è solo questione di metodo Avanti uomini, proviamoci di nuovo Eccolo che arriva, eccolo, colpitelo gente Big Dastard Lee, fai qualcosa? Arrivo signore, mi precipito Bene, non mi merito una medaglia per quest'azione Ebbene, fammi vedere Ecco, se Stupida medaglia Signori, mi spiace, c'è stato un errore terribile Ho scappiato in testa del signor Mate con quello del signor Dastard Lee Ecco, per cui dovrebbe esserci il signor Dastard Lee, raccomando Pronto Certamente, generale Ecco, è per lei Mi dispiace molto, signor generale Mi sono sbagliato Ora immagino che abbiate capito che è al comando ora E per quanto riguarda te, caro Mate Ho deciso che seguirai le nostre azioni dalla cuccia Prendete quel piccione Guarda, questa è una vita da cani Proprio Ma...